Buonasera, benvenuti alla nuova puntata dei 100 minuti di passi da un figlio. Lo so che mi sono mangiata e che sto facendo un po' random e come mi pare in queste puntate. E non sto mantenendo la mia promessa che era quella di fare per un anno consecutivo 5 minuti di vita tutti i giorni. Non sono effettivamente tutti i giorni, ma questo non ci interessa e continuiamo ad andare avanti per la nostra strada. Nonostante la musica sia un po' alta, speriamo che ci senta. Quello che sicuramente non ho da dire, anche se questa musica non è in caso di metterla nel video. Perché poi mi chiama da YouTube e mi dice guarda che c'è il copyright e quindi devi dare i diritti alla casa discografica che ha prodotto questo pezzo. Quindi io, non lo so, consiglierei di andare fuori o di mettere una pausa. Ci siamo, sketch? Bene, ci siamo spostati nella sala dei ludopatici perché così almeno non facciamo le violazioni dei copyright della musica, di tutti gli artisti che si svenano poverini a fare questi pezzi, a fare queste canzoni e li facciamo monetizzare in altro modo. Possiamo dire che Redstone, come lo potete chiamare, rispetto ai primi 5 minuti di parte da Ancullo, quindi al gennaio di quest'anno, è cambiato molto, devo dire. E anche in meglio. Prima appunto ci dicevano che c'è anche un nuovo cuoco che è veramente un bel vedere. Quindi vi consiglio a tutti sempre di venire qui da Redstone che ci si diverte. Poi ci sono anche le slot machine. E quindi, no? Anche lui ha un testimonio, d'accordo. Fai vedere in quale, un tipico ludopatico di Redstone, vedete? Un tipico ludopatico che si schianta. È anche una bella presenza, non è manco brutto. Se non riesco a girare. Ci sono ludopatici peggiori in giro per cercare. Quindi, di qualità, anche i ludopatici di qualità ci abbiamo Redstone. Che dire, che dire di più... Ah, niente, le sceglie di canto continuano bene. Buona sera. Buonasera, eh. Ciao, io. Io ho tutto i maschietti. Scrivitori, non c'è problema. Ho accanto a un paio di candelle. Ecco, per te. Non vedo l'ora di registrare la nuova canzone, che sarà ancora meglio lì per quest'estate. E questo è un weekend, si prevede anche una mezza prova live. Se riusciamo a sfruttare lo spazio dentro uno per lì. al centro sociale che ricomincio ad affari, che fa 31 anni di occupazione, non mancheremo per festeggiare e cercherò anche di infiltrarmi a provare questa nuova canzone. Così vedo, se ti piace, dai, dici su. Se non piace, non ci metto per niente tempo, perché, insomma, non hai il tempo di aversi a fare cosa a casa. E niente, altre cose che ci interessano? Suggerimento? Silvia? No, niente, solo questo ci interessa. Ah, chissà se riuscirò a fare una mostra prima di maggio. Beh, vedete, tutto un forze. Anzi, potevo pure fare una conferenza al cinema con un'esperta formatrice per insegnare ai genitori e agli insegnanti come si fa con i bambini della scuola elementare, insomma, a fargli fare un po' i compiti, a fargli fare matematica, a fargli fare tutta questa serie di cose bellissime, comprendo la scuola eccetera, però mi hanno detto che prima di giugno non se ne parla. Cioè, quindi devo aspettare il settembre che fanno il loro programma e poi ci ricentiamo con le CNIS di Prasinone. Quindi niente, anche se oggi è luna nuova e quindi auguriamo una buona luna nuova a tutti i nostri carissimi follower e a tutti i presenti della stanza utopatica di adesso. Speriamo che domani, insomma, riusciano a crescere sempre di più, sempre di più, sempre di più, mi raccomando. Ciao a tutti, pace a voi.